18 squadre Dimenticato dove andare Ok Ok Così va meglio No ma no No Ma guarda tu Mi se che abbiamo beccato il film non si? Si si è decisamente il film che tra la yarda Da qua in giro dai? Cosa? L'ho craccata 91 Eeeh ha chiuso la porta 10 secondi 3 4 1 4 5 4 5 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 14 15 15 15 18 16 17 25 20 15 15 15 20 a leggere bambi a graccata con gli scuri sono andata di qua vieni eh gli smarfini ma dove sto teclando sto teclando eh no ok 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 eh mi sta capendo un po' di run eh nanzi venga venga 140 no ma ti in mano dici ci ha messo con master si si eh non ho smog vieni qua vieni qua no 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 non ho smog no no non prende ah non prende occhio del chiave della macchina è un traccio ah hanno zippato vieni qua 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 ripusciamo e come va va come va va raga ci siete? non ci credo bell' lavoro squadra ottimo lavoro che faccia delle cure attenzione non ce l'avrei mai fatta senza di voi nuovo leader uccisioni loro cantano vittoria e noi gliele suoniamo e si fanno bussare così ne ho lasciato io qua e c'è pure un kit merito in più calcola il kd sti figli di troia ma infatti ma non ha senso non so c'è un nemico individuato c'è un nemico individuato c'è un nemico individuato c'è un nemico individuato c'è caccomolo ma chi? ah vabbè vengo per sito round 3 eh io cercherei se li ho visti li ho visti guardali guardali qui c'è uno di quegli idioti lo stile è proprio così caustic 140 caustic ok ci vedete sotto gb1 craccata ma mi sparano da dietro Balloon, 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 il ballon è portato dai amico, guarda il ballon Vai vai, fatto, 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 no Un altro Sto ricaricando Ragazzi avete arresto Sto ricaricando gli scudi Avete arrestato di destra Vado, vado a prendere Ho il banner Sì, secondo me amico, vado a confermare questo Arrestami, arrestami Ricarico, nemico abbattuto Eh, neanche io, non c'è niente Qui sotto è piano C'è uno scudo evo qui Wow, livello 3 108 Ui, lo è lacerato, ok L'amico abbattuto Qui sotto è quello che è il mercato Qua, 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 qua è l'unccato uno Vado, vado a prendere questo No Ha riusciato con la gold Dentro, dentro, ora Faccio uno Faccio uno Sto ricaricando Il leader uccisione confermata Dammi alzo Ok, arrivo Sì, perché abbiamo eliminato il leader uccisione Ho confermato la puttana Sì, sì, guardatemi 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 no ma guarda il nemesis non ci credo ok si ultimo team qualcuno sta cercando di dare il meglio ma ti saranno leggera stila arc lanciata 10 secondi l'anello è proprio l'anello è proprio l'anello 25.000 mamma mia 3 kill 2400 danni 3.170 punti ma io mi sa che di meno no non ho preso i punti degli ultimi due non so se c'entra qualcosa 3421 eh vedi io 3.100 che cazzo vuol dire uno è uno qua dove sono gli altri? l'ultimo è stato eliminato bel lavoro squadra solo ma dove si cazzo ci sono lenta? ma dove si lenta la gente? eppure questa è King's Canyon non è che cazzo che cazzo di mappa è controlliamo di là amici reazione in corso reazione in corso ma questa cosa l'avete per favore dovremmo andare da quella parte alberi sta neanche so qui dentro niente niente no? ho racconto dei materiali squadra guarda questa qua è aperta guarda non mi convince questi sono nascosti qua secondo me sì 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 sono da qualche parte eccoli eccoli guarda di my guarda di my vio la rasa h Ma? Cazzo che ho fatto? Ma che tp ha fatto? No Non ho capito Sto ricaricando Sto ricaricando Ma praticamente Sto ricaricando Sto ricaricando Sto ricaricando Sto ricaricando Sto ricaricando Arrivano Oh mio dio 146 Alla balco Unknown Sto ricaricando какое finance Sto ricaricando Sto ricaricando Sto ricaricando Ma adesso Sf Sindur Insur In oppure ha sparato il shield da solo io non manco li ho visti madonna raga ho visto c'era una cosa rossa dentro di giuro nell'angolino una volta raga da sola ci penso io sto ricaricando ragazzi prendiamo giusto riuscite ok e tanto l'ho visto da te ma se ne scappa era uno in solo raga era un solo robino sto vedendo c'è uno raizo traccato raizo ce la pezzo davanti si 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 di qua è una tua robin hood raga lì c'è una capsula assistenza qui sopra raga guardateli guardateli si tre io ce l'ho eh se vuoi ah ma l'hanno visto vai 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 mi furono nel frattempo vai ricarico gli scumi mi sparano dosso mi hanno individuata no 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 ogniну mi farlo amacissim sto ricaricando gli scumi chiezza zi perché mi diamo un fastidio che sto a zip ci siete eh no moment no ma guarda tu sei solo è ne sei solo è ne sei solo è craccato uno ah ma questo era lo più ragazzo devo prendere all'arco devo lasciare il nemico colpo attenzione si si va ora anticipiamo anticipiamo Ricarico gli scudi Qua davanti a me Quasi crack uno Mi sparano Ricarico gli scudi Eh ma ne ult raga Granata L'ho fatto L'ho dilucido L'ho dilucido Valky cacata Valky Ok ho 100 leggeri No mi hanno individuata 70 blue 1 Sta arrivando un'altra squadra 112 Knock Qua 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 80 flash Fatto confermato Devo lottare leggeri Io sono Ho stabilito un contatto con il amico L'anello è vicino Un minuto alla chiusura Pronto a volare su una zipline Contatto Andiamo da questa parte Sto ricaricando L'anello è vicino Eh ma questi qua c'è Questi qua Io 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 Uuuuh Cos'è troccato uno davanti Sto ricaricando Sto ricaricando Sto ricaricando Sto ricaricando gli scudi Sto ricaricando gli scudi Sto ricaricando gli scudi Sto ricaricando Si stanno tirando batteri Newcastle 63-1 Crackato 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 Anche Anche Cos'è come cazzo si chiama Stato sparato Raga attenzione La safe La safe Ok No mi hanno individuata Sto ricaricando gli scudi 70 flash 70 flash I nemici mi stanno sparando 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 Avanzo un attimo 100 ultimi soldi raga E' tua ene Ok Si sono spassati col tempi Oh intanto Uno qui sotto crackato Dove li è Tati? Ma ti entra Vieni Sto usando il rampino Oh 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 Voi di spiegato Mi spiegato il calco Mi spiegato il calco Ok No da me raga No da me raga Verso 9 Vieni 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 Siete i campioni Apex Fa un culo coda Robin Lynx Ma tutti questi punti che stanno andando ora Si non ho capito Ma si sono Prova 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 Oh Ci sta facendo scalare Perché vedi che adesso Prova 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 104 adesso Prova 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 Occhio compasso di saluto No No 120 No 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 Non sarò Entrate Entrate Davanti alla porta Vai 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 Arresta uno dei due Ci penso io No io non ci abbatto Eh non mi ero accorto che ero da solo lì sopra Pensavo eravamo in tre Eh no perché ce l'ho Questo qua è il team di fianco Wow Ma questo è un pred raga Master Un pred 437esimo pred E' il campione Si master pred Ma io non lo so Bheh Non capisco un cazzo Io giuro non ci capisco niente questo esiste Ci ho fatto la top 11 tra l'altro 1200 1200 Ah